Perquisito dagli inquirenti l'ultimo covo di Matteo Messina Adenaro, il rifugio è stato individuato a Campobello di Mazzara. All'interno non sono stati trovati i documenti ai quali gli investigatori danno la caccia. Certo è che Messina Adenaro in quell'appartamento avrebbe trascorso gli ultimi sei mesi. L'abitazione è intestata da Andrea Bonafede e acquistata con i soldi di Messina Adenaro. Il boss è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila. Qui è stata allestita una stanza per offrirgli tutte le cure necessarie e la sua patologia. Potrebbe essere fissata già oggi l'udienza di convalida nella quale Messina Adenaro sarà assistito da sua nipote che fa l'avvocato. Si lavora sulla rete dei complici che ha aiutato il boss nei 30 anni di latitanza. Antonio Panzeri Sipente firma un accordo con i magistrati belgi sul Qatargate. Resterà in carcere solo un anno, pagherà una multa e gli saranno confiscati i beni finora acquisiti per un valore di circa un milione di euro. L'ex europarlamentare ha ammesso di aver pagato il collega belga Tarabella circa 120-140 mila euro consegnati in luoghi diversi. Sono 45 le vittime accertate dell'attacco russo a Dnipro, un numero che potrebbe crescere ulteriormente. Sono negli Stati Uniti i militari di Kiev che vengono addestrati all'utilizzo del Patriot, mentre il Dipartimento di Difesa americano sta inviando all'Ucraina armi statunitensi immagazzinate in Israele. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del Telegiornale della Sette. Dunque l'avete sentito dai titoli. Nelle ultime ore l'attenzione degli inquirenti dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro si è concentrata su quello che potrebbe essere il covo. Comunque sicuramente l'appartamento dove Messina Denaro è rimasto negli ultimi sei mesi che è stato acquistato dal suo stesso prestanome Andrea Bonafede, tra l'altro con i suoi soldi. Nell'appartamento per il momento non sono stati trovati elementi determinanti. Gli inquirenti hanno trovato due cellulari, un'agenda dove non ci sarebbero però degli appunti determinanti. Quindi c'è anche il sospetto che il suo covo possa essere un altro. Facciamo il punto. Eccolo l'appartamento del geometra Andrea Bonafede alias Matteo Messina Denaro. Fino a poche ore fa il boss più ricercato d'Italia. Vicolo San Vito 8, Campobello di Mazzara, provincia di Trapani. 11.500 abitanti, mandamento mafioso di Casselvetrano, regno dei Messina Denaro. I carabinieri sono arrivati qui nella notte che è seguita al clamoroso arresto del sessantenne capo di Cosa Nostra avvenuto in una clinica oncologica di Palermo. A indirizzarli qui il vero geometra Andrea Bonafede, figlio di un boss defunto di Campobello, del quale Messina Denaro usava l'identità usando un documento contraffatto. L'appartamento dentro l'anonima Palazzina Gialla, la periferia del paese dove il boss ha trascorso almeno gli ultimi sei mesi della sua latitanza, è intestato a lui. Davanti agli investigatori ha ammesso di averlo acquistato per poi cederlo in uso al boss. Bonafede è indagato per favoreggiamento come è indagato il medico del paese Alfonso Tumbarello che avrebbe seguito il percorso clinico e le cure di Messina Denaro in questi ultimi anni. Due soli esponenti di quella presunta rete di borghesia mafiosa, parole del procuratore Maurizio De Lucia, che per anni ha aiutato la latitanza del boss. I resti di Messina sono chiusi dentro l'appartamento per i rilievi. Si cercano documenti nascosti ed eventuali tracce biologiche per comprendere se con il boss latitante vivessero altre persone. Anche la descrizione degli interni è il segnale di una latitanza agiata di chi in questo pezzo di Sicilia e del suo regno non aveva nulla da temere e niente da cui fuggire. È un appartamento normale, ben ristrutturato, ben arredato, con degli oggetti, come dicevo prima, se non proprio di lusso, comunque di ricercati, segno comunque di una latitanza di Messina Denaro che trascorreva con una discreta capacità economica. Matteo Messina Denaro nella notte è stato portato via in aereo da Palermo e adesso per lui si sono aperte le porte del carcere di massima sicurezza dell'Aquila. Al suo interno è presente anche un polo sanitario oncologico per le cure necessarie. Difficile che il boss decida di parlare. Qualcosa invece potrebbe certamente emergere dall'esame dei cellulari e dall'agenda sequestrati a Messina Denaro al momento dell'arresto. E come avete sentito da quest'ultimo servizio del nostro inviato, Matteo Messina Denaro in questo momento si trova nel carcere dell'Aquila in regime di 41 bis in attesa dell'interrogatorio di convalida che potrebbe essere fissato già oggi. Adesso è caccia in particolare i suoi fancheggiatori e chi lo ha coperto durante la sua latitanza. Sereno, mai aggressivo, a tratti quasi ironico. Questi i racconti di stampa basati sulle indiscrezioni che filtrano dal supercarcere e le costarelle dell'Aquila dove Matteo Messina Denaro è giunto nella notte tra lunedì e martedì. Un carcere in cui quasi tutti i detenuti sono in regime di 41 bis. Come gli altri sarà trattato anche il superboss ospitato in una cella di circa 10 metri quadri con una videocamera all'interno. I pochi mobili sono inchiodati a terra, la tv ha un accesso limitato ad alcuni canali. Qui nelle prossime ore inizierà anche la chemioterapia assistito dal primario dell'ospedale universitario del capoluogo. Agli agente che gli hanno chiesto quali precedenti avesse ha risposto fino a stanotte. Ero incensurato, poi ora non so, ha detto di non avere una residenza, ha poi nominato come difensore la nipote Lorenza Guttadauro che si è detta a sorpresa, una scelta che fa presagire una linea difensiva senza alcun tipo di ammissione. La prima udienza che lo riguarda si terrà domani a Caltanissetta dove è imputato come mandante delle stragi di Via D'Amelio e di Capaci. E il giorno dopo l'esultanza bipartisan per l'arresto e anche quello delle polemiche sulle intercettazioni innanzitutto con l'opposizione che accusa il ministro Nordio di volere scardinare uno strumento che si è rivelato fondamentale in questa indagine. Nessuno lo mette in discussione, replica il ministro, si tratta di uno strumento indispensabile ma va evitato l'abuso per i reati minori e con diffusione agli organi di informazione. Sul tema torna anche il responsabile del Viminale, Matteo Piantedosi, che oggi rilascia due interviste alla Repubblica e alla Stampa. Sì alle intercettazioni, no a farne un uso distorto, ribadisce Piantedosi, che aggiunge la lotta contro la criminalità non ha confini e non ha colori politici. Spiega poi che dietro l'arresto non ci sono retroscena o trattative, chi cerca di metterlo in dubbio fa un grave errore, commesso in malafede. Sulla stampa Piantedosi difende poi l'ergassolo ostativo come scelta giusta e chiara contro la mafia e sui dubbi costituzionali del carcere duro e non riabilitativo, dice, si valuti una modifica della carta. Una telefonata tra la Premier Meloni e il presidente francese Macron per stemperare in qualche modo le tensioni, in particolare sul tema dell'immigrazione, sul quale appunto sappiamo che ci sono stati diversi problemi tra i due paesi. Ma non si è parlato soltanto di questo, si è parlato anche della guerra in Ucraina e di come sostenere anche le imprese italiane. Cordiale conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica francese, Manuel Macron. Lo annuncia una nota di Palazzo Chigi sul colloquio tra la Premier e il presidente francese. Nello stesso testo si legge che i due leader hanno anche ribadito la volontà di garantire il pieno sostegno all'Ucraina e l'urgenza di individuare a livello europeo soluzioni efficaci per sostenere la competitività delle imprese europee e di contrastare l'immigrazione illegale attraverso un effettivo controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea. La conversazione si è poi conclusa con la volontà di continuare a confrontarsi su queste tematiche, spiega la nota ufficiale, largamente condivisa. Nello stesso contenuto anche il resoconto della telefonata offerta dall'Eliseo, dove si spiega hanno parlato del sostegno militare, umanitario ed economico che l'Europa garantisce all'Ucraina contro l'aggressione della Russia, ribadendo la loro determinazione ad andare avanti fin quando sarà necessario. Meloni e Macron dunque hanno affrontato le questioni europee più urgenti, guardando già al prossimo Consiglio europeo straordinario, che ci sarà il 9 febbraio, in particolare i meccanismi da creare per rafforzare l'investimento e il sostegno ai progetti industriali strategici, le soluzioni contro l'aumento dei prezzi e dell'energia e le questioni relative ai frussi dei miei clandestini che approdono sulle coste italiane. Su quest'ultimo punto, il più caldo degli ultimi mesi, sull'asse Roma-Parigi, i due presidenti hanno parlato della necessità di un effettivo controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea. Sempre sull'immigrazione oggi, il ministro degli esseri italiani e il ministro dell'interno Piantedosi saranno a Tunisi per un incontro con il presidente della Repubblica tunisina, Sayed, e con i rispettivi colleghi. Al centro dei colloqui le possibili strategie per i due paesi per fronteggiare l'aumento delle partenze verso l'Italia lungo la rotta del Mediterraneo centrale. C'è una svolta nell'inchiesta sul Qatargate perché Antonio Panzeri ha deciso di collaborare e ha firmato un accordo con la Procura belga. Si trova attualmente in carcere e ha già fatto le prime ammissioni. Si è pentito Antonio Panzeri, sta parlando colui che viene considerato dagli inquirenti belgi il fulcro del sistema di presunta corruzione denominato Qatargate. L'ex eurodeputato del PD che si trova in carcere ha firmato un accordo con la Procura federale belga nel quale si impegna a rendere dichiarazioni sostanziali, rivelatrici, veritiere e complete alla giustizia in merito al coinvolgimento di terzi e al proprio coinvolgimento in relazione a reati legati al caso in questione. Un'importante evoluzione nelle indagini, dice la Procura, facendo riferimento alla sua firma di questo memorandum. Denunciato il 10 dicembre 2022 per partecipazione ad un'organizzazione criminale riciclaggio di denaro e corruzione, Panzeri dunque si impegna a fornire agli inquirenti informazioni sul modus operandi sugli accordi finanziari, con stati terzi sulle architetture finanziarie messe in atto e l'implicazione anche di persone ancora non entrate nel dossier. L'accordo con la Procura federale belga prevede una condanna a 5 anni, ma con sospensione condizionale della pena per la parte eccedente un anno. Uno dei legali ha spiegato che Panzeri subirà un anno di detenzione, parte del quale sotto braccialetto elettronico. È la seconda volta nella storia giuridica belga dall'introduzione della cosiddetta legge sui pentiti, sull'esempio della legge italiana per le indagini di mafia, che un procedimento si conclude con la firma di un memorandum sottolinea la stessa Procura federale belga. Secondo fonti di stampa inoltre Panzeri avrebbe confessato di aver versato a rate una somma tra i 120 e i 140 mila euro al collega Marc Tarabella, per il quale è stata chiesta al Parlamento europeo la revoca dell'immunità, così come per Andrea Cozzolino. L'iniziativa portata avanti in Parlamento era un'iniziativa di lobbying e ovviamente cercavamo dei parlamentari che fossero disponibili, avrebbe dichiarato Panzeri già nel primo interrogatorio il 10 dicembre scorso. Prevista a carico di Panzeri anche una multa di 80 mila euro oltre alla confisca di beni per circa un milione di euro. E ci sono novità anche per l'inchiesta sui fondi russi alla Lega perché la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per i tre italiani che erano indagati per corruzione. Aveva fatto saltare tutti sulla sedia quell'audio rubato durante un incontro all'hotel Metropole di Mosca e finito sul sito di inchiesta internazionali BuzzFeed. Era il 2019. Seduti a un tavolo, da una parte c'erano l'ex portavoce di Salvini Gianluca Savoini, l'avvocato d'affari Gianluca Miranda e l'ex bancario MPS Francesco Vannucci. Dall'altra tre faccendieri russi. Si discuteva di una maxi compravendita da oltre un miliardo di dollari di gas dal colosso petrolifero Rosnet che avrebbe dovuto garantire 50 milioni alla Lega per Salvini Premier. La Procura di Milano aveva indagato i tre italiani per corruzione internazionale. Ora dopo tre anni il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale ha chiesto l'archiviazione. Le rogatorie inviate a Mosca sono state ignorate, complice anche la guerra in Ucraina. Manca quindi la prova cardine per la configurazione del reato e cioè che uno dei tre emissari russi fosse un pubblico ufficiale. Ma dal dispositivo inviato dal GIP che dovrà decidere se chiudere definitivamente la partita o disporre nuove indagini emergono dettagli che farebbero capire come una trattativa per quei soldi si fece davvero che fu fatta saltare proprio da chi la stava organizzando e che Matteo Salvini, che non è mai stato indagato, sarebbe stato a conoscenza dell'acquisto di prodotti petroliferi dalla Russia. I magistrati lo evincono da un sms di uno degli indagati ma non della presunta tangente. Dal materiale trovato nei telefonini dei tre indagati il nucleo della Guardia di Finanza ha ricostruito ben 40 incontri tra loro e i russi a Milano, Roma e Mosca avvenuti tra aprile 2018 e luglio 2019 ai tempi del primo governo Conte dove Savoini si sarebbe dato da fare per trattare su quella fornitura di prodotti petroliferi dalla quale fosse possibile lucrare una consistente somma per finanziare le europee e le amministrative di allora. Incontri tutti verificati con oligarchi, dirigenti di partito e uomini vicino all'ideologo russo Dugin. E parliamo adesso della guerra in Ucraina. Ieri la moglie di Zelensky è intervenuta al vertice di Davos, ha detto che potrà durare ancora diversi mesi ed è tornata appunto a chiedere aiuto all'Occidente. Occidente che intanto continua a sostenere il paese mentre si continua a combattere sul territorio. Finite le ricerche di eventuali superstiti è di 45 vittime accertate il pesantissimo bilancio dell'attacco a Dnipro. Tra le vittime anche sei bambini, il più piccolo aveva 11 mesi. Un numero destinato a crescere ancora quando saranno identificate in qualche modo e aggiunte le persone che non possono rispondere all'appello. Oltre al fatto che in ospedale tra i 79 feriti ricoverati ce ne sono almeno una decina in condizioni molto gravi. In Ucraina la guerra è in furia e potrebbe durare ancora per dei lunghi mesi. Come ha detto Olena Zelensky, la moglie del presidente al forum economico di Davos, dove è andata per chiedere aiuto e ringraziare per quanto fatto finora dall'Occidente. Armi inviate dalla Nato e dagli Stati Uniti in primis, che secondo un'inchiesta del New York Times starebbero ricorrendo a scorte stoccate in Corea del Sud in Israele, che inizialmente si era mostrato scettico, temendo ripercussioni nei rapporti con Mosca, che entro il 2026 intende costituire un esercito di un milione e mezzo di soldati. Sul fronte occidentale e nel breve termine gli annunci verranno fatti nei prossimi giorni, ha detto il segretario di Stato americano Anthony Blinken, dalla base nato di Rammstein, in Germania, dove domani arriverà il capo del Pentagono Lloyd Austin per incontrare il gruppo di contatto della difesa. Con Lloyd Austin ci sarà il capo dello Stato Maggiore Congiunto delle Forze Militari Americane. I due si uniranno ai ministri della difesa e ai responsabili della difesa di 50 nazioni che arriveranno da tutto il mondo. Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis in sciopero della fame dal 20 ottobre, ha già perso 40 chili. Il suo avvocato Flavio Bernardini Rossi, che gli ha fatto visita nel penitenziario di Sassari, ha presentato formale diffida al Dipartimento dell'Amministrazione giudiziaria, intimando di non sottoporre il suo assistito a trattamento sanitario obbligatorio in caso di aggravamento delle sue condizioni di salute, secondo la sua stessa volontà. Domani Cospito sarà visitato in carcere dal medico di parte, che nelle scorse settimane aveva registrato un calo di potassio potenzialmente pericoloso per il cuore. La vicenda è l'attenzione del ministro della Giustizia Nordio e legale dell'anarchico, su cui pende una richiesta di condanna all'elgastolo per l'attentato nel 2006 ad una caserma dei carabinieri di Fossano, senza vittime né feriti, ha presentato al guardasigilli stanza per la revoca del 41 bis, motivata da una recente sentenza della Corte d'Assise di Roma, con cui alcuni anarchici in contatto con Cospito sono stati assolti dall'accusa di terrorismo. Siamo allo sport, partiamo dal calcio, sorpresa ieri in Coppa Italia, il Napoli è stato sconfitto ai calci di rigore dalla Cremonesi, ad attendere ora la squadra Lombarda ai quarti di finale. Ci sarà la Roma, c'è grande attesa per la Supercoppa italiana, che questa sera Riad metterà di fronte Inter e Milan, unico precedente tra le due squadre, quello di undici anni fa a Pechino, quando a trionfare furono i rossoneri. Tutto è pronto a Riad per questa sfida tra Milan ed Inter, che si contenderanno la Supercoppa italiana, giunta alla 35esima edizione. Dunque, a un mese esatto dalla finale mondiale di Doha, è ancora il Medio Oriente a far da cornice al calcio d'elite. Due squadre uscite con essiti diversi dall'ultimo turno di campionato, accomunate però da un certo abbannamento fisico che ha inciso sulle rispettive prestazioni. In casa Inter, dopo il successo di misura sul Verona, escluso l'impiego di Marcello Brozovic, che non sarà della partita, mentre Lukaku partirà quasi certamente dalla panchina. Al centrocampo recuperato Cialanoglu, che farà reparto con Mkhitaryan. Sulle fasce di Marco e Darmiani, attacco la collaudata coppia Lautaro-Geko. Simone Inzaghi, che in caso di successo raggiungerà a quota 4 i recordman di successi in Supercoppa, Fabio Capello e Marcello Lippi, è certo che i suoi ragazzi daranno il massimo per il raggiungimento dell'obiettivo. Sarò ripetitivo, ma la mia squadra dovrà fare una corsa per il compagno, perché in queste partite è l'unico modo per non avere rimpianti. In casa Milan, buone notizie per Stefano Pioli. Ante Rebic, tornato a lavorare in gruppo, farà parte dei convocati, mentre Kier, subentrato nella sfida di Lecce, recuperata con difficoltà dai rossoneri, verrà schierato titolare al centro della difesa. Confermato invece il rientro di Tonali in cabina di regia, ma l'ingrediente fondamentale per questa finale, secondo Pioli, dovrà essere la qualità espressa in campo dai suoi ragazzi. C'è solo una parola che dobbiamo avere bene in testa, la qualità del gioco. Si vince, si perde, si vince quando giochi bene, quando la qualità del gioco è alta, non mi riferisco solamente alla qualità tecnica, ma alla qualità di scelta, qualità di situazione, hai più probabilità di perdere se la qualità la bassa. L'unico precedente tra le due squadre in una finale di Supercoppa risale all'edizione 2011 disputata a Pechino. Allora fu il Milan di Massimiliano Allegri a trionfare, grazie al successo in rimonta per 2-1, firmato dalle reti di Boateng e Zlatan Ibrahimovic. E chiudiamo con il tennis, gli Australian Open in corso di svolgimento a Melbourne, clamorosa eliminazione al secondo turno per il campione uscente Rafa Nadal, sconfitto in 3-7 dallo statunitense McDonald. Avanza invece al terzo turno l'azzurro Yannick Sinner, che ha battuto l'argentino Eceverri con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 in un'ora e 44 minuti. Ed è tutto per questa edizione, ora le informazioni sul traffico con Camilla Delai e poi il meteo di Paolo Sottocorona. A seguire il dibattito di Omnibus condotto da Alessandra Sardoni. Sui ospiti questa mattina sono Andrea Purgatori, Andrea Del Mastro, Carlo Bonini, Giovanni Bianconi e Stefano Bonaccini. Poi a seguire Coffee Break condotto da Andrea Pancani, gli ospiti Barbara Fiammeri, Alberto Balboni, Enrico Borghi e Pino Corrias. La prossima edizione del telegiornale è le 13.30. Grazie per averci seguito, buona giornata.